Questo accordo è la dimostrazione che nel sud si possono fare dei progetti nei tempi giusti e con trasparenza. Con queste parole Roberto Barbieri, l'amministratore unico di GESAC, gestore dello scalo salernitano, divenuto un tutt'uno con capo di chino, ha commentato la sottoscrizione del protocollo d'intesa che, questa mattina, presso la prefettura di Salerno, con i vertici delle forze dell'ordine, il colonnello Gianluca Trombetti per il comando provinciale dei Salerni e Oriol De Luca per la Guardia di Finanza, assente per improvvisi e sopraggiunti impegni, il vicario del questore Ficarra, davanti agli occhi del prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha garantito collaborazione per evitare infiltrazioni malavitose nell'importante cantiere dell'aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno. Un intervento da 134 milioni di euro. È stato lo stesso Barbieri a fare un punto dei lavori in corso definendo il cantiere un progetto importante che sta andando avanti in maniera esemplare. È in corso di assegnazione la gara per la realizzazione dell'aerostazione ed è in corso la procedura per completare l'esproprio di alcuni terreni. Gesac conta di dare operatività allo scalo nel 2024. L'aeroporto rappresenta per l'amministratore unico una sfida importante personale. Quando sono tornato in Campania mi sono posto questo obiettivo che va a salvare e supportare anche lo scalo di Napoli che già nel 2019 era saturo ha ricordato Roberto Barbieri. Ma a sottolineare invece l'importanza dell'intesa che copre diversi aspetti dai subappalti ai lavoratori è stato il prefetto di Salerno Francesco Russo che a margine della conferenza è intervenuto anche sulla questione relativa alla sospensione e presenza delle scuole con i sindaci che continuano a tenere out le scuole nonostante il suo richiamo all'attenzione delle normative nazionali. Qui abbiamo posto particolare attenzione a vari aspetti. È un protocollo basato su tutte le norme anche più recenti che sono state emesse. L'abbiamo sottoposto al Ministero dell'Interno il quale chiaramente ce l'ha approvato e tiene conto anche di tutti gli aspetti che riguardano l'aeroporto. Tiene conto anche della parte espropri su cui ci sta un monitoraggio attento sviluppato dalla Guardia di Finanza. C'è un capitolo dedicato anche all'ingresso in aeroporto, ai pass per tutti coloro i quali lavorano. E c'è chiaramente una fortissima attenzione a tutto quello che è il tema soprattutto dei subapparti per cui ci sono dei meccanismi molto efficienti per evitare che e dando delle possibilità anche alla ditta appaltatrice di allontanare immediatamente eventuali situazioni di mandar via, di eliminare eventuali situazioni di compromissione. Per cui siamo molto soddisfatti del lavoro fatto e di quello che stiamo stipulando stamattina.